Allora è sempre difficile comparare due tornate elettorali che, soprattutto quando si svolgono con regole diverse, infatti siamo reduci da una competizione elettorale in un'elezione europea che si svolge con un sistema proporzionale e stiamo cercando di fare una proiezione su un'altra competizione regionale che invece si svolge col sistema maggioritario. Ci sono delle indicazioni che possono essere colte perché oggettivamente è abbastanza chiaro una certa tendenza di voto nel Paese, però attenzione che i meccanismi non sempre si possono trasporre puntualmente da un ciclo a un altro. Quindi questo sistema elettorale maggioritario delle regionali potrebbe confermare o potrebbe leggermente smentire quelli che sono stati i risultati della competizione elettorale europea che si è appena scrutinata.